Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video analisi futuri campioni. Oggi andremo ad analizzare un calciatore del settore giovanile del Milan, ma prima di iniziare volevo ricordarvi di lasciare un piacere al video, iscrivervi al canale e vi ricordo che nel caso vi foste persi i scorsi episodi di questa serie, sia di questa stagione ma anche delle precedenti, li potete recuperare tutti nella playlist che appunto si chiama video analisi futuri campioni. Oggi parleremo di Andrea Bartoccioni, Andrea Bartoccioni è un classe 2004 al momento in cui stiamo registrando il video a 19 anni, come accennato prima gioca nella squadra di club del Milan, squadra che quest'anno ha avuto parecchio a che fare con diversi esordi di tanti giocatori della squadra di primavera, su tutti i simi, c'è Camarda, Ciacatrò Re, Bartesaghi, Gimenez, che sono tanti giocatori che hanno già trovato dei minuti preziosi in prima squadra, un po' per infortunio di tanti giocatori in questa prima parte di stagione, un po' perché negli ultimi anni il Milan sta lavorando bene a livello giovanile. E sicuramente Andrea Bartoccioni rappresenta uno dei giocatori più interessanti, anche lui è stato convocato in prima squadra, non ha trovato ancora minuti preziosi anche poi per il ruolo che ricopre, dove è difficile poi trovare i minuti a meno che non si infortunino tutti quelli davanti nelle gerarchie, ma comunque rappresenta uno dei prospetti più interessanti a livello giovanile italiano. È nato in Italia, come piede preferito utilizza il piede destro ed inoltre è alto ben un metro e 96. Come accennato prima, nel suo ruolo è difficile esordire perché vuol dire che i tre giocatori della prima squadra si sono fatti male contemporaneamente e deve esserci proprio un caso particolare, ma come faccio intuire da questa affermazione il suo ruolo è quello di portiere, ruolo che era anche abbastanza intuibile dalla sua altezza che è quasi di due metri e quindi sicuramente grazie alla sua fisicità è sempre più difficile fare gol, ma è un portiere che come dopo andremo a vedere dalle clip che abbiamo preparato è molto reattivo e bravo soprattutto nelle parate e nelle uscite basse, che è una cosa difficile da trovare in portieri così alti. Le sue statistiche nel momento in cui stiamo registrando il video sono le seguenti, in primavera una ha totalizzato 10 presenze subendo 12 reti ottenendo due clean sheets, in UEFA Yacht League che è la corrispettiva UEFA Champions League ma a livello giovanile ha totalizzato 5 presenze subendo 6 reti ottenendo un solo clean sheet. Statistiche che per i portieri trovano un tempo non meritato perché sappiamo quanto il ruolo di portiere sia poi nettamente influenzato anche dal lavoro di tutta la squadra perché se un portiere subisce più tiri è più probabile che subisca più reti ma comunque ha delle qualità importanti appunto Bartoccioni che lo rendono come detto prima uno dei prospetti più interessanti per il futuro del calcio giovanile sia per la squadra rossonera ma anche poi per un'ottica futura anche in orbita nazionale considerando che però l'Italia nel ruolo di portiere ha sempre avuto tantissime scelte ed è sicuramente il ruolo che dà meno problemi alla nostra nazionale visto anche i continui successi a livello mondiale. Come somiglianza abbiamo deciso di metterlo a confronto con un portiere moderno il portiere titolare del Milan stiamo parlando di Mike Magnone sono entrambi portieri molto rettivi molto bravi nelle parate e nelle uscite basse come dopo andremo a vedere sicuramente per arrivare a livello di Mike Magnone che è uno dei migliori portieri in tutto il calcio europeo e non solo si deve lavorare tanto sia sul carisma ma su questo aspetto già è un giocatore Bartoccioni che riesce a dare la sua impronta a tutta la linea difensiva ma anche poi sulle qualità proprio di reattività che si migliorano col passare dei minuti che si accumulano in competizioni superiori rispetto al campionato di primavera 1 e poi conseguentemente anche con esperienza in ambito sia nazionale ma anche internazionale. Come già detto più volte in questo video i pregi che abbiamo trovato per Andrea Bartoccioni sono i seguenti quello della parata bassa e quello dell'uscita bassa caratteristiche che ricordiamo per un portiere di un ben un metro e 96 sono caratteristiche importanti che vanno a rappresentare una buona reattività soprattutto un buon senso di intuizione soprattutto nell'uscita per capire bene il tempo e per non commettere falli che poi portano a rigori o punizioni e quindi sicuramente ad occasioni pericolose è Juventus obbligata a cercare allora le punte Kevin Zerolli con fallo ma c'è vantaggio infilata Angele giù con il petto contro le calciabartoccioni paranziala per allontanare pulire l'aria definitivamente quando infilza la Juve allora c'è pericolo. Sì hanno giocato con intelligenza qua il pallone era bellissimo Ziala si è fatto attrarre totalmente fuori posizione perché non c'era nessuno tra lui e Simic quindi se ricercare ancora una volta Turco può mettere giù buono l'allungo forte Turco para Bartoccioni ancora Juve sempre con Turco il più vivace il più efficace bravi nonostante la linea 5 del Milan hanno sofferto questo campi gioco un po' disattenti qua Turco. Il difetto principale che abbiamo trovato per Andrea Bartoccioni è quello della presa fondamentale importante per il portiere perché sappiamo che con la presa si evitano delle respinte che poi possono finire sui piedi degli avversari e quindi conseguentemente far creare un'altra occasione pericolosa un aspetto importante che sicuramente Andrea sta cercando di migliorare col passare degli anni sicuramente un aspetto su cui già migliorate sicuramente un aspetto su cui migliorerà per poi fare la sua carriera che sicuramente noi gli auguriamo sia di grande livello e caratura nazionale, internazionale e magari anche di trovare il suo esordio in prima squadra con la maglia rossonera che è sicuramente una delle maglie più prestigiose nel mondo del calcio europeo detto questo io spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo con un prossimo video sul canale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti